Ed eccoci di nuovo pronti e al via di una puntata che dedichiamo a una ballata, questa volta una canzone che si intitola Never Tears Apart e che ha un sapore romantico, è firmata dagli NXS, per questo andiamo idealmente e musicalmente all'agosto del 1988. Il brano è estratto dal sesto album in studio Kik della formazione australiana, scritto da Andrew Farris e Michael Hatchkins e prodotto da Chris Thomas, fa ricordato che ha avuto un ottimo successo e che poi ha vissuto anche nuove vite, per così dire, grazie alle numerose cover che ne sono state realizzate. Tra queste vogliamo ricordare a titolo di esempio quella del 1999 da parte di Tom Jones e Nathalie Imbruglia, che hanno registrato in duetto il brano presente poi nell'album Reload e pubblicato anche come singolo, oppure quella di Joe Cocker che ha interpretato la canzone inserendola poi nel suo disco Respect Yourself del 2002. Quanto all'originale, nel 1988 raggiunse la posizione numero 7 della Billboard Hot 100 e la numero 5 della Billboard US Mainstream Rock Chart, la numero 14 della Area Singles Chart e la 24 della classifica in Gran Bretagna. Nel 2014 invece il singolo torna in classifica esattamente alla posizione numero 11 della Area Singles Chart, in seguito al successo della miniserie I NXS Never Tear Us Apart, dunque omonima del brano. Va anche sottolineato come la canzone si trovi anche alla posizione numero 282 della classifica di Rolling Stone, delle 500 più grandi canzoni di tutti i tempi, classifica stilata esattamente nel 2021. E a questo punto vale anche la pena ricordare la band a cui è legato il nostro singolo di oggi, che a breve andremo a riascoltare insieme. Gli I NXS furono una band australiana di grande successo internazionale, ovviamente negli anni 80, con dischi rock, dai suoni pop, cioè chitarre, basso, batteria, però anche tastiere elettroniche e qualche tratto di aggressività un po' melodica. Il più grande successo fu proprio la nostra canzone di oggi, ottenne un riscontro meritato ovviamente per l'originalità della canzone. Lui poi il frontman aveva anche un'immagine molto accattivante, soprattutto per il pubblico femminile, però si tolse la vita a 37 anni, esattamente nel 1997. Il disco più venduto della band di sempre fu proprio quello dell'88-87, è la data di uscita esatta negli Stati Uniti, che all'interno aveva proprio Never Tear Us Apart. Fu il singolo che venne pubblicato e andò molto bene, soprattutto godette nei 35 anni successivi, di una coda lunga di recuperi, di apprezzamenti, di cover appunto, di colonne sonore o inni da stadio. Insomma, grazie anche al fatto che è una canzone piuttosto orecchiabile da ascoltare, per chi la conosce e la riconosce, si sa, insomma, a parte il waltzer, il ritmo da ballata, c'è quella straordinaria sospensione e ripartenza dopo 50 secondi, c'è la voce del cantante che a qualcuna addirittura ricorda nei commenti Mick Jagger e poi c'è quel, diciamo così, ritornello Never Ever, c'è anche un sassofono che parte e irrompe dopo la pausa successiva e il controcorro finale. Insomma, tutti ingredienti preziosi, uniti al testo, semplice e potente, che quindi è arrivato il momento di riascoltare insieme. Grazie